Sono una sessantina i musicisti fra gli 8 e i 20 anni provenienti da Cremona e Provincia che partecipano allo stage estivo dell'orchestra musichè promosso da CMT Academy e Be My Music con il padrocinio del comune e il coordinamento del professore Gianluigi Bencivenga in corso per l'intera settimana al Teatro Monteverdi. È un appuntamento ormai tradizionale per i giovani artisti che possono così alternare lo studio individuale a momenti di musica d'insieme in un periodo come l'estate dove i corsi sono solitamente sospesi. Abbiamo una prima parte della giornata che prevede appunto lezioni individuali di approfondimento della lettura, della partitura e in un secondo momento abbiamo attività per piccoli gruppi, quindi per sezioni nei vari spazi e sempre nel pomeriggio invece sono previste le attività a orchestra congiunta. Una grande organizzazione anche per i ragazzi che possono vedere lo studio della musica sotto più aspetti quindi quello individuale è quello di attività di musica d'insieme. Lo stage risulta formativo sotto il profilo sia didattico sia personale. I ragazzi stringono amicizie e si divertono sul palco come raccontano Leonardo e Michele. Questa qua è la mia seconda volta che faccio questo stage e mi piace suonare insieme con l'orchestra. Ho deciso di partecipare a questo stage perché volevo provare una cosa nuova e poi perché mi piace suonare insieme, cioè tutti insieme. Io ad esempio ho fatto molti amici, cioè sono venuto qua con un mio amico e basta che conoscevo e ho fatto molti altri amici. Il repertorio è vario, spazia da brani come Train Blues e Por una Cabeza a colonne sonore di film con un midley dedicato a Morricone. Le partiture sono riarrangiate appositamente per l'orchestra musichè. Lo stage si concluderà con un concerto, stavolta non all'ombra del Torrazzo bensì in spiaggia, sabato 3 settembre alle 20.30 al bagno 41 di Rimini.